L'istante potrà visualizzare tutti i documenti del procedimento. L'azione è possibile mediante l'apposito pulsante situato in basso destra. Nel fascicolo documentale si trovano tutti i documenti inseriti dalle parti e generati dal sistema nella gestione del procedimento. Il fascicolo costituisce la storia del procedimento. È possibile compiere questa stessa azione per l'istanza di conciliazione, per il procedimento di definizione e per il provvedimento temporaneo. Sempre dal fascicolo documentale, il cliente può inserire un nuovo documento o informazioni di testo utili al procedimento tramite l'apposita tab di inserimento aggiungi documento scrivi testo. L'azione è possibile se siamo in negoziazione diretta, conciliazione semplificata, in attesa di udienza o in udienza. L'istante dovrà specificare il tipo di documento, inserire una descrizione, il relativo testo e caricare il file. Il formato del file può essere solo PDF, JPEG o PNG e la dimensione massima non deve superare i 10 MB. L'amore è un'altra parte. L'amore è un'altra parte.